Cade il potenza al Viviani, la spunta di misura a un Messina che porta a casa tre punti preziosi in chiave salvezza e la rete di Balde al 55esimo a decidere il match in favore dei siciliani e mettere insieme la seconda vittoria consecutiva. Si ferma a 6, invece la striscia positiva dei Lucani. Gara su buoni ritmi e ricca di spunti, al quarto del sole su punizione e calce in porta, Fumagalli respinge, poi ci prova sbraga, pallone sul fondo. Al diciassettesimo sempre Lucani pericolosi, questa volta da corner, calciato da Di Grazia, Talia si smarca in aria ma calcia alto. Al venticinquesimo si fa vedere il Messina per la prima volta con l'occasione sul destro di Ragusa, del pinto Famuro, palla in angolo. Al trentaquattresimo di nuovo il potenza da corner, gira sole in acrobazia, Fumagalli c'è, il portiere siciliano al quarantaduesimo è protagonista di un'ottima uscita che anticipa il possibile tap-in di Caturano. Prima dell'intervallo gli ospiti sfiorano il vantaggio, Perez tutto solo a botta, sicura ci prova, sbraga con la testa, salva il punteggio, difensore abbracciato dai compagni, intervento tempestivo che manda le squadre a riposo sullo 0-0. La ripresa si apre con la palla gol per il potenza, minuto 51, la Ribi trova Caturano in posizione regolare ma l'attaccante, Lucano, calcia malissimo. Al cinquantacinquesimo il Messina punisce i padroni di casa con una bella combinazione che porta al tiro balde, palla in rete e 1-0 per i siciliani. Immediata la risposta dei ragazzi di Raffaele, al sesantunesimo la Ribi su punizione colpisce la traversa, tre minuti dopo da corner, mischia furiosa in area Messina, Fumagalli costretto agli straordinari. All'ottantatresimo Schimmenti cade a terra sul contatto con Conatè in area Messina, l'arbitro indica il dischetto, rigore per il potenza ma Caturano conferma la giornata no e manda il pallone sul fondo, errore che condanna il potenza alla sconfitta. Lucani di nuovo in campo sabato prossimo per provare a riaprire la porta dei play-off, si gioca sempre al Viviani contro la Juve Stabia, Messina atteso da un'altra trasferta, quella di Torre del Greco contro la Turris.